Perciò il posto è un po' di scopo E' un po' di gioco Ma si puoi farlo Se ci sono due un po' di gioco Non è passato? No, non è passato Non è passato No, non è passato E' va come ti fai? E' fatica il latte E' fatica il latte la ti parla, la ti parla la ti parla, la ti parla è a polo no? e che tu c'è la differenza tra le altre camminate più? basta via faccia il video fa tutta la telecamera ma se l'hai che la telecamera ha fatto una fotografia in uno la telecamera e e che hanno impazzolato la stia poi che ci avranno dei piedi vai 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 eee 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 a vicoli ci attrezzo ci attrezzo di truidi Gruppo Pino Tinto a terra è l'asfalto c'è c'è un minuto è italiano è italiano eh no? sono spettacolari